Il Cotile dei Gentili si è dotato da tanti anni di una consulta scientifica e questa consulta scientifica non è chiusa in se stessa, vuole aprirsi a altre esperienze. In questo senso l'Università Cattolica ha tantissimo da donare avendo a sua disposizione un pool di esperti imparagonabile. Ed è appunto per questo che non è solo a livello meramente dell'incontro che è importante o di accordi che si possono fare o di lavori o di eventi come questo, ma è proprio a livello dell'esplorazione e delle basi antropologiche di tutte le questioni che riguardano la scienza e la tecnica e il futuro dell'uomo che questa collaborazione deve inquadrarsi.